Ok, perfetto. Il tema di oggi è quello del podcast, quindi partiamo con la presentazione che dovreste riuscire tutti a vedere e riprendiamo un po' di cose che sono già state dette negli incontri precedenti. Noi siamo immersi in un ecosistema informativo, noi, le nostre studentesse, i nostri studenti. L'ecosistema è differente per ciascuno di noi. Lo scopo, la finalità che noi dobbiamo raggiungere è quella di arrivare ad incidere sull'ecosistema informativo delle persone che compongono le nostre classi, perché solo in questo modo riusciremo in qualche misura ad orientare i loro consumi e quindi a far tornare utile alla nostra attività didattica anche tutta l'attività che loro svolgono nell'ecosistema informativo. Da che cosa è composto? Dai vari media, dai formati, dai linguaggi, dalle narrazioni e appunto in questo ecosistema possono circolare, a seconda di come è gestito, di come è improntato, anche informazioni storiche, informazioni culturali. Diverso è riuscire a capire da subito se sono informazioni corrette, banalizzate, distorte, portatrici di odio. Il problema è intercettare questo ecosistema e attraverso tutta una serie di azioni che sono quella magari di condividere l'ascolto di alcuni podcast, la visione di alcuni filmati, il seguire determinati profili Instagram o TikTok, provare ad orientare i consumi dei ragazzi e delle ragazze in modo che tornino a noi utili rispetto al lavoro didattico che stiamo facendo. Il consumo informale di storia è un consumo ampio, molto più ampio di quello che normalmente siamo portati a pensare, perché tutti i palloncini che vedete lì in realtà rappresentano un potenziale consumo informale di storia, di attualità, di contenuti culturali, dai portali ai podcast, ai videogiochi. Prego Gabriele. Posso chiedere la gentilezza di metterlo in modalità presentazione in modo che appaia più grande, solo questo, grazie. Allora, spero di riuscire perché con la barra sopra ho la... proviamo, eh. Perché forse è su un drive, forse per quello... Sì, è sul drive, è sul drive. Facciamo così, presente, dovrebbe arrivare, dovrebbe arrivare, ok. Ok, ottimo, grazie. Quindi, appunto, i film, i video su TikTok, i romanzi, perché non è che il consumo culturale tradizionale che viaggia al di fuori della rete non esista più, un meme, una storia su Instagram, qualunque cosa può veicolare contenuti che possono essere importanti per noi e bisogna, eh, quindi riuscire, in qualche misura, a intercettarli. Una volta che sono stati intercettati, è poi possibile, eh, con gli studenti e con le studentesse, fare dei ragionamenti sulla bontà di questi contenuti culturali. Non possono essere demonizzati a priori, dicendo non guardate nulla su TikTok, perché tutto quello che potreste trovare lì è qualche cosa che non è assolutamente utile, anzi che va contro ciò che noi stiamo dicendo, perché non è, non è la finalità e comunque non è neanche utile. Bisogna riuscire, in qualche misura, a entrare nella bolla dei ragazzi e delle ragazze che si siedono in classe davanti a noi e cercare, in qualche modo, eh, di provare a far entrare una parte della loro bolla nella nostra e viceversa. Elena, mi senti? Sì? Senti, scusa un secondo. Allora, eh, ho sì risolto la questione, quindi tutti possono, e adesso mi sono anche iscritta come, oh, come faccio. Ehm, quello che volevo dirvi è che, eh, non tu, allora, adesso ho cercato di risistemare ulteriormente il foglio firme, però attualmente l'hanno firmato soltanto Dario, Patrizia Moraglio, non firmatelo più voi perché l'avete firmato più volte, Dario, Patrizia Moraglio, Lordi, scusa perché non leggo il nome, eh, ah sì, Cristina, Cristina Lordi, Gabriele e Gabriele, quindi tutti gli altri non l'hanno fatto, perciò lo rimettiamo un attimo in modo che si possa, appunto, fare, eh, in modo che tutti lo firmino. Ma in chat non c'è. Eh, scusa un attimo, ma Elena, io non so adesso... Ma non lo vediamo in chat, perciò non lo abbiamo firmato. Eh no, lo so, ma adesso lo vedete, perché ora lo rimette Elena. Vediamo, ok. Allora, se tu lo metti... Non posso, non so perché... No, no, se lo metti, se lo metti a me, io... Ma è sempre lo stesso, sempre lo stesso, ricopialo dalla chat. Ok. Allora, aspettate che torno su e ve lo metto io. Lo vedete adesso? Sì, ok. Ok, adesso se lo firmate solo tutti un momento, tutti i presenti, tranne quelli che ho nominato, così poi siamo a posto. Sono anche riuscita a togliere il nome di Dario da ovunque. Ok, adesso direi che così questa cosa è risolta, perché sennò poi non ci sono i... Le presenze. Non ci sono le presenze. Perfetto. Adesso, visto che sono arrivate Sara e Lara. Gabriella. Uno, due, allora, uno. Katia. Katia, poi hai riso, hai capito? Cioè, non so come aiutarti, perché anche Stefano mi ha detto che puoi riprovare, va bene. Magari ne riparlerete dopo della questione di chat GPT, comunque di provare con un'altra mail. Eh, non ho avuto più modo di provare. Ah, ok, va bene, perfetto. Però, allora, avete firmato tutti? Faccio l'appello. Dario, Patrizia, Moraglio, Cristina, Lordi, Gabriele Bonifacio. Io non ancora, mi si è bloccato un attimino. Ok, Sara De Muro, Lara Giuliani, Gabriella Castagnolo, Katia Piccinini, Claudio Truzzi. Io sto provando a risolvere dei problemi, meglio che non mi aspettiate, perché sia tutto intasato. Dimmi solo come, perché adesso non lo vedo il tuo nome, intanto... Patrizia Madonna, lo firmo, lo firmo. Ah, perfetto, comunque firmalo, benissimo. Non voglio bloccare, sì, non voglio bloccare. In ogni caso io lo metto anche qua. Ok, adesso io vi lascio lavorare. Fatto, benissimo, perfetto. Quindi, dicevamo, quello che noi dobbiamo... Sei a posto, sei organizzatrice... Ok, quello che noi dobbiamo riuscire a fare è quindi andare a capire quali sono i consumi culturali, anche informali, che i nostri studenti portano avanti sulla storia o comunque sulle materie e sugli argomenti che ci interessano e metterci in dialogo con loro su questi aspetti. Visto che oggi ci soffermiamo sul podcast, se immaginiamo di organizzare una lezione, una serie di lezioni, di creare un'abitudine all'ascolto dei podcast, dobbiamo capire preliminarmente quali sono i podcast che i nostri studenti, le nostre studentesse ascoltano normalmente. Questo ci dà la panoramica iniziale e a quel punto noi possiamo dare dei suggerimenti a seconda di quello che vogliamo andare ad approfondire e a trattare con loro. Vogliamo parlare di attualità, vogliamo parlare di storia, vogliamo parlare di ambiente. Qualunque sia l'argomento che vogliamo tirare fuori attraverso il linguaggio del podcast, possiamo offrire dei suggerimenti, fare all'inizio degli ascolti guidati, degli ascolti comuni, senza però escludere completamente quello che loro già ascoltano e provare magari ad ascoltarlo anche noi e vedere se c'è qualche cosa che dai prodotti che risultano fra quelli che piacciono agli studenti e alle studentesse, c'è qualcosa che può essere recuperato. Quindi quello che facciamo noi adesso è un po' quello che si potrebbe fare in classe. Io immaginando che l'insegnante entri e provi a dire oggi facciamo un esperimento, facciamo una lezione utilizzando un podcast, chieda quali sono quelli che normalmente ascoltate. Quindi adesso io chiedo a voi, e lo potete scrivere nella chat, quali sono i podcast che voi normalmente ascoltate. Non siamo tanti, se volete lo possiamo anche fare parlando senza nemmeno stare ad alzare la mano. Se lo scrivete poi lo ritroviamo più avanti nel corso dell'incontro. Come preferite voi? Chi ascolta i podcast? Vai, vai Patrizia. Io guarda, ascolto solo, quello della giornata di Pertici di Repubblica, che sono le notizie, e Circo Massimo di Giannini. Poi vabbè, la Cecilia Sala avevo ascoltato qualcosa, però io non ho nessun social, hai capito? Ok. Qualcuno dice qui si fa l'Italia. Perfetto. Qualcun altro fa degli ascolti? Io grazie ai vostri suggerimenti dell'anno scorso, anche Cecilia Sala, che non conoscevo, e Sara Giudice. Perfetto. Qualcun altro? Allora, io l'ho scritto pure in chat. Ok, ok. Secondo me c'è un discorso, si potrebbe fare un approfondimento, per il fatto che i post suppongono soltanto l'audio, ma non il video, e quindi li trovo poco, diciamo, interessanti, perché preferisco vedere, non so, un video su YouTube, dove c'è quindi anche l'immagine. Anche l'immagine. Ma io li ascolto al mattino, quando mi preparo, oppure quando faccio colazione, quelli di solito, quando sono, no? Cioè, quando faccio anche altro, tanto li ascolti, trovo invece comodo. Allora, l'assenza di audio è proprio una delle caratteristiche e uno dei motivi per cui in questo momento è uno strumento così utilizzato, così diffuso e è anche una delle ragioni per cui piace molto a chi è molto giovane. Poi adesso questo aspetto lo vediamo. Però è chiaro che o decidiamo che è un linguaggio che noi non riusciamo a fare nostro e quindi non lo inseriremo all'interno della nostra didattica, se decidiamo comunque, anche per offrire una pluralità e per offrire delle possibilità, magari a studenti che invece concentrandosi su un solo canale sensoriale potrebbero essere avvantaggiati, perché è vero che l'immagine insieme all'audio molto spesso funziona meglio, però ci sono situazioni nelle quali è meglio isolare i canali sensoriali e per qualcuno potrebbe essere più utile avere soltanto il canale audio in alcune situazioni. Però nella misura in cui decidessimo di fare nostro questo strumento dobbiamo avere una sorta di conoscenza del mezzo in sé, ma anche così un elenco di quelli che possono essere i podcast più utili a tutti i temi che noi vogliamo andare a trattare, tutti insieme in classe o perché li assegniamo in ascolto autonomo a casa con delle attività da svolgerci sopra. Allora, noi l'anno scorso, chi ha partecipato al corso si ricorderà, avevamo utilizzato questo video di Lorenzo Pregliasco, che è proprio uno degli autori di Qui si fa l'Italia, e avevamo cercato di capire quali sono le ragioni di questo successo degli ultimi due o tre anni del podcast e lui sottolineava appunto che una delle caratteristiche principali è quello di doversi affidare soltanto all'ascolto, creando, se il podcast è fatto bene, se funziona, se tocca quelle che sono le corde di chi ascolta una immedesimazione, come succedeva nell'oralità antica. Per moltissimo tempo tutta la trasmissione della cultura basata sulla tradizione orale è stata una trasmissione fatta soltanto attraverso l'ascolto. e questo ci riporta indietro o di molti secoli o di alcuni decenni, però dover ascoltare e dover immaginare attraverso le parole di qualcuno che può esserci presente o può essere lontano da noi, può essere qualcuno che conosciamo o può essere qualcuno che non conosciamo, arriva poi a creare un legame di intimità fra chi parla e chi ascolta. È chiaro che se non scatta, prego Gabriele. Grazie. Forse l'avete detto magari nel primo incontro che io mi sono perso, ma i podcast so che si possono trovare facilmente su internet, ma se io cerco, mi dice su Spotify, su piattaforme Apple, su internet precisamente dove si possono trovare i podcast. Se posso, magari ripeto, avete detto, ma non sono perso. Allora, cioè genericamente sono su internet perché quasi tutte le piattaforme che li trasmettono che sono la più diffusa è quella di Spotify, ma poi ce ne sono tante altre da quella di Intesa San Paolo. È perché noi fruiamo del contenuto agganciandoci alla rete. non è che siano così distribuiti nella rete casualmente, bisogna accedere ad una delle piattaforme che ha le caratteristiche che ci permettono o di ascoltare il contenuto dalla piattaforma o di scaricarlo e ascoltarlo in un secondo momento. Sono quasi sempre dei file MP3, sono dei file leggeri e diciamo che rispetta anche soltanto a una trasmissione radiofonica, magari molti di noi in auto accendono la radio, però tu probabilmente ascolti una canzone perché casualmente nel momento in cui accendi la radio passa quella canzone lì, se sei abituato a fare lo stesso tragitto in auto allo stesso orario e magari sei affezionato non lo so a Radio 3 e a una particolare trasmissione radiofonica che loro fanno hai un'alta probabilità di sentirla tutti i giorni perché la prendi in quella fascia oraria. Per un podcast non è così perché se io voglio sentire stories di Cecilia Sala è sufficiente che io vada su Spotify, cerchi stories e posso ascoltare in qualunque momento della giornata la puntata di ieri come la puntata di un anno fa perché il contenuto è sostanzialmente on demand. Scusate, interrompo, quindi bisogna scaricare l'app oppure registrarsi tramite il computer alla piattaforma ed effettuare ogni volta l'attesto per poter vedere appunto il caricamento del file audio in post. poi allora Spotify ci si registra e se si fruisce del contenuto nella modalità gratuita semplicemente di tanto in tanto interviene un messaggio pubblicitario. Chi diciamo si abbona ha il vantaggio di ascoltare tutti i contenuti senza le interruzioni pubblicitarie. Ecco, cioè l'unica differenza è quella è quella però diciamo rispetto alla trasmissione radiofonica allora poi ci sono non lo so Radio Rai in realtà le sue trasmissioni radiofoniche le registre quindi poi c'è un portale nel quale uno può andare a riascoltarle però nella maggior parte dei casi se uno sta ascoltando un qualunque programma dal volo del mattino che c'è se non sei connesso in quel momento lì difficilmente poi hai la possibilità di recuperarlo un podcast è qualche cosa che tu puoi recuperare continuamente la durata è una durata molto variabile ci sono podcast che durano anche un'ora ce ne sono molti che si situano fra i 40 e i 45 minuti ecco per l'utilizzo in classe sono già durate impegnative perché un ascolto così prolungato probabilmente ad un certo punto vede cedere l'attenzione degli studenti e delle studentesse perché non è detto che al primo ascolto tutti i messaggi contenuti siano stati intercettati e compresi quindi magari di ascolti è necessario farne due allora è meglio orientarsi su prodotti che hanno una durata nel tempo più limitata diciamo entro i 15 20 minuti fornendo magari anche una griglia di lettura uno schema di analisi proprio perché se è necessario intanto lì si ascoltano nella loro interezza ma poi possono essere interrotti e casomai riascoltati nell'arco della lezione la tempistica è estremamente estremamente importante da questo punto di vista ce ne sono di tante tipologie c'è quello storico c'è quello di cronaca c'è quello letterario ci sono i talk c'è quello come ha accennato qualcuno di voi che vi dà le notizie del giorno ci sono quelli diciamo a puntata unica e ci sono quelli che in qualche misura sono delle serie per cui diciamo se io voglio lavorare sulla puntata numero 3 in qualche misura devo anche essere a conoscenza di quello che è il contenuto della puntata numero 2 e della puntata numero 1 perché altrimenti alcuni passaggi della puntata numero 3 potrebbero non essermi del tutto del tutto chiari quindi queste sono tutte caratteristiche di questo strumento di questo linguaggio che vanno tenute presenti voi poi in cartella avete la presentazione e nella presentazione noi abbiamo comunque lasciato il link al video che Lorenzo Pregliasco aveva fatto per noi in occasione della pre-summer la summer school dell'istituto nazionale parri del 2022 perché in quell'occasione c'era stato un laboratorio proprio insomma su questo su questo linguaggio e quindi è un'intervista abbastanza breve che si può ascoltare questo però è un contenuto che serve a voi per entrare meglio in quelle che sono le modalità di questo linguaggio io adesso vi ho messo un po' di suggestioni perché a seconda di quello che vuole essere l'utilizzo che andate a fare in classe appunto non è che uno magari possa conoscere nel dettaglio tutti i podcast che in questo momento sono disponibili e sono davvero davvero tanti sulle diverse piattaforme però giusto per avere un pochino una piccola mappa orientativa da utilizzare se si inizia la scoperta di questo mondo allora Federico Taddia che è un divulgatore che scrive anche testi per ragazzi che quindi ha un linguaggio che facilmente viene apprezzato e compreso da chi ha meno di 18-20 anni ha creato e questo è su Spotify e diciamo fa parte della grande famiglia di Cora Media Qui Futuro sono quattro episodi e lui tratta sostanzialmente il problema energetico attuale ponendo alcune domande che ci aiutano a capire meglio qual è il problema e offrendo anche qualche possibilità di soluzioni questo ve lo segnalo in particolare perché è accompagnato da un trailer anche lì se voi decideste di far lavorare i ragazzi in classe non è detto che dobbiate necessariamente un po' come quando si presentano i libri mettiamo che voi vogliate attivare un gruppo di lettura proponete tre quattro titoli diversi come fate perché i ragazzi possano indirizzarsi alla scelta di leggere l'uno o l'altro dei testi che voi avete deciso di dare in elenco fate un piccolo riassunto una piccola presentazione il trailer ha questa caratteristica in 25 secondi 40 secondi 3 minuti annuncia tutta una serie di sue caratteristiche si comincia a capire che tipo di ritmo ha che tipo di uso della musica all'interno delle puntate saranno fatte qual è la voce narrante perché magari anche soltanto il timbro della voce potrebbe convincerci o non convincerci a proseguire nell'ascolto quindi l'ascolto dei trailer nel momento in cui si vanno a proporre diversi podcast sui quali lavorare è preliminarmente un'azione estremamente utile lo stesso Federico Taddia ha fatto stesse modalità stessa piattaforma una serie di 5 episodi che si intitola Marga è sempre un contenuto di tipo scientifico a cura di un divulgatore esperto nel rivolgersi ai giovani e ai giovanissimi ma non è più un problema generale quello che viene affrontato uno dei grandi problemi sui temi ambientali quindi questo io ve l'ho indicato perché comunque è utile se volete lavorare con il podcast per esempio all'interno dell'educazione civica uno dei filoni è quello dell'educazione ambientale questo è dedicato alla figura di Margarita Huck quella di Margarita Huck è una figura che siccome ha dei libri dedicati ha delle video interviste dedicate a tutta una letteratura e una sitografia e una videografia che la sostengono ci permette di lavorare sulla cross medialità cioè ascoltiamo un episodio e a seconda delle cose che lei racconta in quell'episodio potremmo individuare un articolo scientifico un brano da un libro che lei o qualcun altro ha scritto su di lei potremmo presentare tre quattro tavole di un fumetto che trattano della sua vita potremmo proporre uno spezzone di intervista che va proprio a riprendere le cose di cui lei parla in quella puntata per stare un po' più sul tempo presente da un punto di vista storico c'è una serie in quattro episodi che è la rotta balcanica e che appunto racconta nello specifico qual è il viaggio che le persone fanno quando attraverso quella rotta cercano di lasciare alcuni paesi per le ragioni che tutti sappiamo e di giungere in Europa se vogliamo lavorare un po' di più con il podcast sull'ora di storia perché siamo insegnanti di storia o comunque questo è quello che ci interessa io vi do qui una panoramica che chiaramente è un po' diversa dalla precedente allora Pablo Trincia ha fatto sei puntate di questa serie che si intitola L'inferno di El Alamein è chiaro che il tema è quello è un tema storico riguarda un fatto storico molto preciso cronologicamente identificabile con tutta una serie di caratteristiche e il plus se vogliamo da un punto di vista storiografico è che la la narrazione che ci viene proposta è fatta attraverso materiali che provengono dall'archivio dell'istituto luce e una parte delle letture è dai diari che alcune delle persone che hanno partecipato a questa vicenda persone più o meno famose hanno scritto quindi diciamo sono testimonianze che non erano all'epoca state raccolte sotto forma di interviste ma che qua ci vengono restituite attraverso una lettura è chiaro che avere scelto dei brani piuttosto che degli altri è una scelta che dipende da chi ha creato lo storyboard e quindi tutta tutta la sceneggiatura però questa è un'operazione che anche qualora noi volessimo poi proporre ai nostri studenti alle nostre studentesse come compito di realtà la creazione di un podcast anche molto breve di pochi minuti possono essere suggerite come esempio Cora Media insieme all'Istituto Nazionale Ferruccio Parri ha in corso di realizzazione una serie che non è conclusa al momento si compone di tre puntate e il titolo è hai presente con il punto di domanda alla fine ad oggi sono state realizzate e se ascolterete se ascolterete questi questi podcast si alternano le voci di diversi storici in genere storici che in qualche misura appartengono alla rete italiana degli istituti storici della resistenza e della società contemporanea le puntate sono state realizzate sulla marcia su Roma sull'otto settembre e sul venticinque aprile questo ve lo suggerisco perché se si lavorasse anche in educazione civica sul calendario civile è possibile che uno decida un consiglio di classe o un insegnante o un gruppo di insegnanti di fare un lavoro relativamente al venticinque aprile l'ascolto di questo podcast chiarisce la terminologia il lessico specifico la cronologia degli eventi che portano poi a individuare quella data del calendario civile come particolarmente significativa insomma all'interno anche di quello che è oggi il sistema costituzionale italiano se si vuole magari un po' ampliare io trovo molto carina questa sedia in otto episodi maestre e maestri d'Italia ci sono ovviamente le grandi figure di chi si è occupato di insegnamento in senso lato e ci sono anche tutta una serie di suggestioni rispetto a come il mondo della scuola nel tempo si è modificato può funzionare anche per argomenti storici ma diciamo è un format un po' più giornalistico essendo lui un giornalista rispetto ad altri la serie storie d'Europa di Mario Calabresi che si compone di otto episodi se da una parte hai presente vuole andare in qualche misura a lavorare sul calendario civile italiano e quindi su come la Repubblica italiana dalla fine della seconda guerra mondiale si è organizzata e costituita questo podcast apre ad una dimensione europea è abbastanza interessante se si pensa di affrontare insomma l'argomento dell'Europa perché le interviste che Calabresi conduce in una situazione un po' particolare permettono poi diversi spunti di riflessione poi così io vi ho messo anche questo per farvi capire che comunque il mondo che si sta creando intorno a questo nuovo consumo che non è nuovo in realtà il consumo culturale ma questo consumo culturale che torna ad essere un po' al centro dell'attenzione è veramente molto vario ma anche molto trasversale per essere lunga sulla storia del cibo Cora Media ha realizzato una volta era il cioccolato è un pochino la narrazione di tutte quelle che sono state le introduzioni alimentari che sono derivate dalle conquiste geografiche è un modo meno diretto più tangente di affrontare alcuni argomenti soprattutto di geostoria però insomma questo podcast è decisamente fatto abbastanza bene poi per stare un po' più sulla modalità di utilizzo delle fonti storiche per andare a raccontare un particolare fatto storico e quindi non farne soltanto una attualizzazione di tipo giornalistico un esperimento molto ben riuscito è quello di Benedetta Tobagi allora Benedetta Tobagi di cui avete lì il link ad una lezione specifica su questo tema che lei ha fatto per degli studenti che partecipano in Piemonte ad un concorso regionale di storia contemporanea che chiede di produrre degli elaborati rispetto a tre tracce una è sull'ambiente una è sui diritti umani e una è su un particolare fenomeno resistenziale che è quello delle zone libere o repubbliche partigiane e lei ha fatto questa lezione partendo dalla sua esperienza diretta di scrittrice che ha realizzato un saggio che tra l'altro è stato recentemente premiato con il premio Campiello la resistenza delle donne è un saggio che unisce la narrazione che lei ha creato all'uso delle immagini che arrivano dai fondi storici lei vuole esemplificare quello che effettivamente è stato il contributo femminile alla resistenza fra il 43 e il 45 in Italia e lo fa con una ricerca che dura parecchio tempo negli archivi degli istituti storici ma non soltanto e tra le fonti che si trova ad utilizzare non è è un uso che viene fatto anche nel libro ma diciamo è un uso in qualche misura in diretto ci sono le trascrizioni delle interviste che negli anni 70 80 erano state fatte alle protagoniste di quella vicenda storica quelle di Anna Bravo quelle di Anna Bravo per esempio quelle che sono state fatte c'è stato tra il 1970 e l'80 a scuola a cura dell'Aiso comunque di tutti quelli del De Martino che si occupano di storia orale una grossa campagna di interviste si sono fatte ai reduci della deportazione militare ai reduci della deportazione politica ai reduci della deportazione razziale e le si sono fatte ai protagonisti e alle protagoniste della resistenza sono materiali che esistono molto spesso non sono neanche ancora stati tutti riversati sulle audiocassette fondamentalmente qualcuno virtuosamente li ha già trasferiti su altri supporti ma molto spesso di queste interviste soprattutto di quelle che risultavano più interessanti erano state redatte delle trascrizioni perché come nel caso della resistenza taciuta o degli altri lavori di Anna Bravo poi erano confluite in dei volumi l'intervista non era sempre fine a se stessa era un'intervista che ti serviva poi per andare a scrivere un libro lei nella fase di realizzazione del volume usa le trascrizioni e le inserisce insieme a tutto l'altro materiale che trova le sue considerazioni alle immagini esattamente così come sono però lei intuisce che se ci sono le trascrizioni da qualche parte devono essere gli audio originali e quindi ad un certo punto decide che vuole veramente far ascoltare la voce di queste donne cioè vuole che siano loro con la loro voce a raccontare alcuni aspetti particolari della presenza femminile nella resistenza italiana e quindi non si accontenta più delle trascrizioni ma va alla ricerca delle fonti audio è chiaro che il tema è quello molto spesso le fonti sono le stesse ma tra realizzare un libro e realizzare un podcast come prodotto finale e come processo intermedio ci sono delle differenze il podcast si intitola esattamente come il libro la resistenza delle donne solo che c'è la voce narrante di Benedetta Tobagi che fa il contesto storico l'introduzione poi ci sono gli inserti che possono durare pochi minuti o un po' di più a seconda dello spezzone che lei ha scelto di queste donne che appunto intervistate raccontano delle cose questa è l'ultima proposta così che che vediamo oggi e su questa magari ci soffermiamo un pochino di più perché diciamo se quello che si vuole introdurre è l'abitudine all'ascolto del podcast sì intanto ho visto la grazie Claudio perché qualcosa sì in effetti si recupera se è radio lo si recupera Stories di Cecilia Sala è un format tutto sommato giornalistico quasi quotidiano ha la caratteristica di essere molto breve e quindi per un utilizzo in classe ha la durata giusta Cecilia Sala è molto giovane ha quindi una modalità di approccio e di linguaggio molto vicina a quella dei nostri studenti e delle nostre studentesse e su Stories su prodotti come questo quello che si può creare è effettivamente un'abitudine all'ascolto mettiamo che io veda questa classe due volte la settimana posso decidere che se li vedo il lunedì mattina i primi 15 minuti siano dedicati ad una dell'ascolto di una delle puntate di Stories della settimana precedente perché perché io ho deciso o ho immaginato presupposto che quell'argomento sia particolarmente interessante da approfondire e discutere con loro perché sono i ragazzi che li hanno ascoltati e che mi hanno proposto questa la modalità poi la si decide però potrebbe essere quella da seguire in questo modo si viene a creare un legame una relazione è chiaro se io lo faccio ascoltare una sola volta la settimana e in qualche modo poi se ne discute potrebbe nascere in loro l'interesse e la curiosità di ascoltarlo sempre anche perché abbiamo detto non lo devono necessariamente fare nell'orario in cui lei la puntata del giorno la pubblica ma uno può decidere che il sabato pomeriggio mentre va in un posto o a fare la passeggiata con le sue cuffiette e il suo smartphone ascolta e complessivamente sono meno di 90 minuti di prodotto tutto quello che è stato proposto durante quella settimana noi lo avevamo utilizzato molto l'anno scorso per parlare della guerra in Ucraina le ultimissime puntate che lei ha realizzato molto spesso parlano della guerra fra Israele e la Palestina insomma il conflitto che è attualmente in corso in Medio Oriente e devo dire rispetto alle puntate sull'Ucraina che erano già puntate abbastanza crude perché poi quando è un giornalista che parla insomma chiaramente si va subito dentro quelli che sono i fatti e gli accadimenti le ultimissime puntate quelle con i bombardamenti sugli ospedali non sono di così leggero non sono di così leggero ascolto però possono servire anche a farsi un'opinione su quello che in questo momento sta accadendo non così distante da noi è chiaro che non deve essere un ascolto passivo deve essere un ascolto guidato i 15 minuti vanno smontati bisogna capire come quel racconto è stato costruito chi è lei perché si trova lì qual è il suo lavoro quali sono le sue fonti che ovviamente nel caso di qualcuno che fa il reporter da zone di guerra non sono le fonti d'archivio e lei ogni tanto dice ho questa fonte o quest'altra fonte si tratta di persone che molto spesso lei intervista e alcuni frammenti di queste interviste che molto spesso sono anche non in italiano perché i fronti di guerra che lei frequenta ovviamente la portano in contatto con persone che parlano altre lingue molto spesso c'è come lingua di intermediazione l'inglese ma a volte sentiamo il sottofondo in una lingua che non è chiaramente l'inglese poi subentra la traduzione questo ci permette di ragionare sul rapporto fra passato e presente su come le cose evolvono e comunque di non perdere il passo rispetto a tutta una serie di questioni che sicuramente vanno ad interrogare anche le persone che noi ci troviamo davanti e l'altra la caratteristica di Cecilia Sala è che lei ha un profilo Instagram che oggi conta quasi 390.000 follower un anno fa erano 40.000 allora siccome i fruitori di Instagram sono mediamente persone che hanno meno di 25 anni questo vuol dire che in qualche misura chi la segue su Instagram probabilmente ascolta il suo podcast e viceversa lei tra l'altro su Instagram come molte persone che fanno il suo lavoro usa le storie non necessariamente i post per trasmettere i suoi contenuti perché per tornare all'obiezione che giustamente qualcuno sollevava all'inizio Instagram se si chiama così è perché parte dall'immagine è nato come social che avrebbe avuto l'intenzione di comunicare attraverso fotografie fotografie che all'inizio si immaginavano perfette artistiche che poi in realtà sono diventate una serie di altre cose le storie che quindi sono le immagini in movimento anche accompagnate dall'audio perché naturalmente le fotografie audio non ne avevano è qualche cosa che si è inserito successivamente anche per venire incontro alle richieste ai gusti di quello che era il pubblico che fruiva di questi contenuti questo è quello che in qualche misura significa entrare nella bolla cioè potrebbe non essere Cecilia Sala potrebbe essere un altro creatore di questi contenuti ma se noi arriviamo a intercettarla intercettarlo possiamo portare dentro la nostra attività didattica qualche cosa che già fa parte del consumo culturale dei nostri ragazzi e delle nostre ragazze e su quello provare a fare poi il salto di qualità per cui la loro bolla diventerà una bolla più attenta a contenuti culturali di livello e dall'altra parte noi magari riusciamo anche introducendo un formato un linguaggio nuovo ad avere una maggiore efficacia perlomeno su alcuni contenuti l'ultima cosa lei è anche una giornalista da carta stampata scrive scrive sul foglio ci sono ormai tante interviste sue e tanti interventi su OIA talk show su youtube quindi insomma è proprio una persona che a 360 gradi noi possiamo seguire questo è un esempio perché poi ce ne sono ce ne sono molti altri se appunto come vi accennavo prima l'intenzione sul compito di realtà fosse poi quella di far creare il podcast magari anche senza arrivare alla registrazione ma semplicemente scrivendone il testo questa diciamo è in qualche misura la scaletta che va seguita non tradire la propria personalità e non essere perfetti nell'edizione come vi dicevo all'inizio insomma ci sono voci che a me personalmente affascinano molto e magari è è l'avvio iniziale all'ascolto di quel podcast è prodotto proprio dal fascino di quella voce che è l'unica cosa che mi guida perché non ho appigli visuali o di altro tipo oppure ci può essere una voce disturbante che quindi io non io non do seguito all'ascolto proprio perché c'è un fastidio di questo tipo però è caratterizzante io poi ogni volta che sentirò la stessa voce in podcast diversi se in qualche modo ho creato un legame mi sono fidelizzata sarò portata in qualche misura a fidarmi e quindi a procedere nell'ascolto non si dialoga con l'ascoltatore cioè io devo essere capace di fare una narrazione che si autosupporta che è avvincente coinvolgente che deve avere tutte le caratteristiche per tenere fermo o in movimento ma comunque attento e presente fino all'ultimo secondo l'ascoltatore ma non posso pensare in qualche modo di dialogare con lui o con lei perché questa modalità non lo permette non è la trasmissione radio dove ad un certo punto i microfoni si aprono alle telefonate alle domande l'uso delle fonti deve essere un uso ho cercato di dimostrarvelo in un paio di esempi estremamente accurato e preciso chiaramente se vogliamo un lavoro qualitativamente e contenutisticamente valido ci vuole una scaletta nessuno dei dei prodotti anche quelli che sembrano più improvvisati effettivamente lo è c'è una preparazione dietro molto lunga e estremamente puntuale si possono inserire interventi audio si può inserire musica la registrazione potrebbe essere condotta anche con uno smartphone se si ha l'accortezza di mettersi in delle situazioni in cui non ci siano interferenze audio funziona bene registrare in macchina perché effettivamente è un ambiente abbastanza protetto e poi ci sono piattaforme libere dove si può pubblicare il proprio lavoro e lì ne sono citate alcune questo però diciamo è proprio il gradino finale di arrivo vi proponiamo anche naturalmente questo passaggio perché questo permette di essere spettautori fino a che ascolto anche quando esco dall'ascolto passivo perché imparo ad identificare un buon prodotto a decostruirlo a individuare quelle che sono le fonti quelli che sono i momenti salienti della narrazione a in qualche modo farmi delle domande e a trovare delle risposte però è chiaro che poi il passo successivo quello della creazione permette fino in fondo di aumentare la cultura storica o sull'argomento che si sta in qualche misura tagliando allora io direi che possiamo spegnere la grazie a tutti Grazie.